Musica Benvenuti a questa nuova puntata di Panacea. Oggi parliamo non di una malattia ma di un sintomo che spesso nasconde anche gravi patologie, cioè la cefalea. E lo facciamo insieme al dottore Nicola Calabrese. Dottore grazie per aver accettato di partecipare al nostro programma. Grazie a voi per l'invito. Il dottore Calabrese è neurologo presso l'ASL Salerno e fa attività ambulatoriale a Capaccio, ma è originario di Lustra e abita ad Agropoli, giusto? Giusto, giusto. Inoltre io so anche un particolare che lei è amante di musica classica e in particolare opera lirica. È vero, quale musicista le piace in particolare? Ma insomma io sono molto affezionato a Vincenzo Bellini per la delicatezza della melodia, ecco, in generale tra le opere liriche. Prima di parlare dell'argomento di oggi, che ne dice se guardiamo una scheda introduttiva? Certo. Ok, allora via con la scheda. La cefalea, detta comunemente mal di testa, è uno dei disturbi più comuni e più fastidiosi. Ognuno di noi almeno una volta ne ha sofferto. Si presenta come un dolore alla testa, diffuso o circoscritto, pulsante o fisso, talvolta accompagnato da altri sintomi come nausea, vomito, febbre, vertigini e fotosensibilità. Questo stato spiacevole può durare da qualche minuto fino a molte ore. La sensazione spiacevole di dolore dovuto alla cefalea influisce negativamente sull'umore, sulle relazioni interpersonali e sulla vita lavorativa. Chi soffre di frequenti mal di testa è più irritabile, ansioso e stressato rispetto alla media delle altre persone, meno attivo e produttivo nello studio e nel lavoro, meno disponibile al contatto con gli altri, più bisognoso di momenti di riposo e solitudine. Le donne sono più inclini a soffrire di cefalea rispetto agli uomini. Nel corso di un anno il 90% degli individui soffre almeno una volta di mal di testa. Tra quelli che si recono al pronto soccorso per cefalea, circa l'1% ha un grave problema di fondo, in quanto la cefalea può anche essere espressione di una malattia importante. La cefalea. Ma emicrania e cefalea sono sinonimi? Nel linguaggio comune, generalmente, vengono utilizzati con lo stesso significato. Nel linguaggio medico, invece, no. L'emicrania è una forma specifica di mal di testa, con caratteristiche ben definite, tipo nausea, vomito, fastidio alla luce, i rumori, malattie che colpisce prevalentemente le donne. Mentre la cefalea è quella forma di mal di testa che, generalmente, sperimentiamo tutti, con un dolore continuo, tipo un peso alla testa, un cerchio, che può durare da pochi minuti a diverse ore e che non interferisce in modo significativo con la vita quotidiana della persona. È vero che esistono diversi tipi di cefalea? Sì, abbiamo sostanzialmente due grossi gruppi di cefalee, le cefalee cosiddette primarie, dove il mal di testa è la malattia, con diverse caratteristiche che poi ne definiscono bene il quadro. E poi un altro grosso gruppo, che è quello delle cosiddette cefalee secondarie, dove per secondarie intendiamo un mal di testa dovuto a una malattia ben precisa che può determinare un mal di testa. Per esempio un otite, un disturbo della vista, piuttosto che la febbre o piuttosto che un trauma che spesso si accompagna a mal di testa. E come fa un paziente a distinguere da una cefalea primaria da una cefalea secondaria? In genere il paziente cefalalgico, cioè il paziente che ha già una storia di malattia, conosce la caratteristica della sua malattia. Quindi capisce bene che quel tipo di dolore l'ha sperimentato più volte, che si presenta con quelle stesse caratteristiche, che dura in un certo lasso di tempo e quindi, come dire, è già in qualche modo padrone della sua malattia. Se invece è una forma secondaria, i sintomi, il disturbo generale è un po' diverso e spesso si associa ad altre problematiche. Quindi in linea generale è in grado di poter capire. Ovviamente ci sono delle forme che a volte sono più difficili da definire e in questo senso poi dipende anche dalla durata della malattia. Cioè nel senso che se il mal di testa è più lungo del solito, questo potrebbe aprire una ipotesi di una forma diversa dal solito. Quando una cefalea deve far preoccupare veramente? Cioè quando si deve sospettare una patologia più grave, come ad esempio un tumore endocranico? Si deve pensare che quel tipo di mal di testa possa essere espressione di una malattia diversa dal solito quando il mal di testa è più persistente, dura più a lungo, oppure è continuo, oppure si associa a dei disturbi che in precedenza il paziente non aveva sperimentato. Che ne so, un disturbo vertiginoso, una nausea persistente, un dolore che dura anche durante le ore notturne, un difetto neurologico, che ne so, un calo della vista, piuttosto che un calo dell'udito, allora queste condizioni aprono un sospetto verso quel tipo di cefalea. La cefalea può anche associarsi a disturbi refrattivi della vista, come ad esempio la miopia o l'astigmatismo? Allora, spesso nei bambini la causa del mal di testa è un difetto di difrazione, nel senso che questi bambini, ma non sono i bambini, anche a volte negli adulti, questo difetto visivo non è così importante, ma tuttavia crea delle difficoltà attentive e di stress, diciamo così, psicologico e muscolare, per cui si può accompagnare a un tipo di mal di testa, cosiddetto di tipo tensivo, cioè un dolore continuo, frontale, tipo a fascia, che può durare anche giorni e giorni. E la cefalea può anche associarsi a uno stato depressivo? In linea di principio sì, nel senso che la malattia depressiva è una malattia che interessa a 360 gradi la persona che ne affetta e tra i vari disturbi che la depressione può determinare c'è anche una cefalea. Le caratteristiche della cefalea nel depresso sono quelle di una cefalea tensiva, c'è un dolore continuo, generalmente interessa la regione nucale, persistente, frequente al risveglio e quindi può essere l'espressione di una depressione. D'altra parte una cefalea cronica potrebbe, sul lungo periodo, determinare anche una risposta depressiva, anche se è meno frequente. Dottore, adesso le faccio una domanda personale. Da un momento che io non vado mai a dormire all'ora giusta, è possibile che la perdita di sonno possa creare cefalea? Sì, però questo soprattutto per i pazienti che hanno una storia di malattia. Cioè, nei pazienti che hanno problematiche di natura cefalalgica, le alterazioni dei ritmi sonno-veglio, che le so, spostare il sonno troppo tardi, alzarsi la mattina troppo tardi, oppure svegliarsi troppo presto, cioè tutte quelle condizioni che alterano il ritmo del paziente, in realtà possono scatenare o attivare una risposta di natura dolorosa e quindi cefalalgica. E ci può essere una relazione tra la cefalea e l'alimentazione? Cioè, ci sono dei cibi che addirittura, assunti in eccesso, possono determinare cefalea? Allora, questo dei cibi è un discorso molto importante, ma che riguarda soprattutto la forma di dolore che noi chiamiamo elicrania. Cioè, quel tipo di dolore che colpisce prevalentemente le donne e che si caratterizza per essere un dolore pulsante, che si accompagna a nausea, a volte vomito, irritabilità, disturbi alla luce, della luce, dei rumori, insomma, questa forma spesso è scatenata da particolari cibi. E in genere i cibi che più frequentemente vengono tirati fuori come causa di questa malattia sono gli insaccati, o piuttosto la cioccolata, o piuttosto le fragole, o alcuni prodotti additivi, tipo il dado, che possono scatenare delle crisi emicraniche. Però questo è un discorso personale, nel senso che non tutte le persone affette da emicranie hanno poi una sensibilità a questi cibi. Però spesso noi troviamo questo rapporto tra cibo e malattie, quindi il cibo scatena la crisi emicranica. E la cefalea può sopraggiungere anche dopo l'assunzione di un farmaco, per esempio? Sì. Spesso la si registra soprattutto per dei farmaci che vengono utilizzati nel campo cardiologico, quelli che vengono utilizzati per il trattamento dell'ipertensione arteriosa, che hanno questo effetto, come dire, vasodilatatore, e questi farmaci tipo calci antagonisti oppure i nitro derivati possono indurre delle forme, come dire, di cefalea, di tipo sempre emicranico. Poi c'è un farmaco in particolare che sono gli estrogeni, che spesso, utilizzati ovviamente per problematiche di natura ormonale nella donna, possono determinare o un accentuarsi o addirittura lo scatenarsi delle crisi emicraniche. Quali sono le terapie oggi per la cefalea? In linea generale noi distinguiamo due modi di affrontare questi problemi. Allora, la prima parte è quella del trattamento della crisi, della fase acuta, della malattia, e noi la definiamo terapia dell'attacco. E esistono dei farmaci ben definiti, che vanno, come dire, individuati e consigliati in rapporto al tipo di mal di testa. Se per una emicrania c'è un gruppo di farmaci, per la cefalea un altro gruppo di farmaci. Ma l'obiettivo della terapia è quello di prevenire gli attacchi di emicrania. In questo caso noi facciamo riferimento alla cosiddetta terapia di prevenzione o di profilassi. E tra i vari prodotti o presidi che vengono suggeriti per questo tipo di terapia, abbiamo sia un gruppo di farmaci, che vengono utilizzati in vario modo, e poi anche delle strategie terapeutiche non farmacologiche. Per esempio delle tecniche di rilassamento, tipo il biofeedback, oppure dei supporti psicologici, oppure il fatto di suggerire un cambiamento delle abitudini, dei comportamenti, che ne so, un'igiene relativamente all'uso, vuol dire, di sostanze, ridurre l'introduzione di alcolici, ma soprattutto regolare questi ritmi, sonno-veglia, e già questo a volte può essere un presidio terapeutico di sufficiente, in accordo con la storia del paziente, e a volte può anche essere da solo risolutivo. Dottore, un'ultima domanda. Che cosa suggerisce a una persona che soffre per la prima volta di questa patologia? Il consiglio è quello di non rivolgersi al farmacista e fare la cosiddetta automedicazione, cioè nel senso ricorre a dei farmaci antidolorifici che in qualche modo potrebbero risolvere il problema in quel momento, ma non risolvono la malattia. Quindi rivolgersi al medico, ovviamente al medico di famiglia, ma soprattutto allo specialista, per inquadrare questo tipo di problematica e ricevere un sopporto, come dire, terapeutico che permetta di prevenire la malattia, piuttosto che ricorrere a una terapia del momento, con farmaci di uso comune, cosiddetti antidolorifici, che però, sebbene risolvono il problema nell'immediato, ma sul lungo periodo possono creare dei problemi, come dire, non semplici, semplici, tipo una dipendenza, tipo una cronicizzazione della malattia, e poi questo potrebbe determinare anche una difficoltà ulteriore nel trattare la malattia successivamente. Io ringrazio il dottor Calabrese per la disponibilità, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Panacea. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!